Adesso andiamo a Messina dove i carabinieri hanno eseguito 23 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio della droga. Francesco Triolo. Il termine gioia li ha traditi. Era la parola criptate utilizzata al loro interno nelle telefonate e nei messaggi per concordare lo scambio della droga. Ma una fidanzata gelosa ha preteso spiegazione uno degli arrestati sottoposto a intercettazione ambientale ha dovuto vuotare il sacco. L'inchiesta della DDA e del nucleo investigativo dei carabinieri Messia ha portato all'alba di questa mattina l'arresto di 23 persone, 9 dei quali agli arresti domiciliari e ha smantellato due diverse organizzazioni del messinese. Un'operazione sviluppata nell'ambito delle indagini sulla latitanza dei fratelli Vincenzina e Calogero Mignacca arrestati tra Lentini e Francofonte nel 2013. Dalle intercettazioni di uno dei fiancheggiatori di Mignacca infatti venne fuori un fiorente traffico di droga. Ascisci per il gruppo operante nella fascia di Renica, eroine e cocaina nella zona sud della città. L'accusa è quella di reati connessi al traffico di droga. La curiosità era il termine con cui concordavano le consegne? Esatto, era un termine convenzionale che i sodali del gruppo della provincia aveva individuato per colloquiare via sms in maniera riservata. Un'indagine che prende spunto da un'altra, ben più grossa, quella della ricerca dei fratelli Mignacca. Sì, si tratta di un'operazione di oggi, diciamo, il frutto di uno approfondimento investigativo, di uno spunto autonomo maturato appunto nel contesto investigativo teso alla cattura dei fratelli Mignacca. C'è anche alcuni cittadini marocchini tra gli arrestati, in particolare uno di questi è accusato anche di far parte dell'associazione operante nella provincia. I gruppi riuscivano a smaltire 100 dosi ogni due giorni e le indagini hanno fatto luce anche su alcuni furti in abitazione commessi nel barcellonese e nel milazzese.